Sappiamo quello che troveremo domani. Sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. Troveremo un Milan che è in netta ripresa, che sta trovando ottimi risultati, che sta capendo quello che vuole il nuovo allenatore e quindi dovremo essere molto attenti per fare una partita di livello. Immobile sta in miglioramento, però non era ancora in grado. Probabilmente avremmo potuto anche rischiarlo, ma nell'ottica delle tante partite che andremo ad affrontare si è parlato con lo staff medico, e con lo stesso ragazzo che puntiamo mercoledì per averlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la classifica è sotto gli occhi di tutti, è migliorata, ma noi dovremo affrontare tutte le partite come abbiamo fatto fino ad oggi, sapendo che quella che viene è la partita più importante. L'importante è che domani ci sia una Lazio affamata, e dico affamata perché per vincere a San Siro servirà un'impresa, ma insomma in questi due anni siamo riusciti a fare tante buone partite e speriamo domani di riuscire a fare la partita perfetta. Non scelgo mai quella dopo, probabilmente alla vigilia dell'Udinese qualcuno aveva detto che bisogna pensare al Milan, non sono d'accordo, non sono d'accordo perché quella che viene è sempre la più importante, fermo restando che ogni allenatore deve sapere che ci sono tanti impegni ravvicinati. Io prima dell'Udinese ho pensato solo e esclusivamente all'Udinese e non al Milan, adesso sappiamo che giocheremo due volte col Milan, che mercoledì sarà importantissima l'andata di semifinale di Coppa Italia, però in questo momento la mia testa è rivolta domani alle 18 perché per noi è una partita molto molto importante. Ultimamente abbiamo tenuto un grande ritmo che dovremo continuare a tenere, probabilmente alla vigilia del campionato nessuno avrebbe scommesso che saremmo stati non davanti ma perfino in lotta con Roma e Inter, però adesso ci siamo, abbiamo l'obbligo di doverci rimanere fino alla fine sapendo che sarà difficile, però insomma i ragazzi stanno facendo benissimo e però dobbiamo continuare tutti quanti sull'onda dell'entusiasmo e di tutte le certezze che il tempo ci ha portato a questa squadra. Nella mia testa ho ancora tanti dubbi perché abbiamo disputato due partite contro Chievo Udinese che hanno portato via energia, adesso insomma domani avremo un risveglio muscolare e poi scioglierò gli ultimi dubbi. Sicuramente in attacco abbiamo tanti giocatori e quindi dovremo essere bravi a farli ruotare, a cercare di volta in volta a capire quali saranno i migliori per la partita che andremo ad affrontare. Grazie. 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 Grazie.